bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è uscita la nuova pro 2 invece della pro 100 adesso c'è anche la pro 2 è uscita oggi e adesso facciamo vedere facciamo la giochiamo vedete qua c'è il centro qui mi seguire la prima partita in produrre quindi non so bene allora senza voce a costa voce qui fateci caso perché sono c'è dove c'è anche tutta la gente che mi sistemo lo zainetto ok vai ma i miei compagni hanno già fatto fare tutti cos'è sta cosa no, non mi viene fare niente, pensavo fosse una roba delle hack oh cacchio, brutta idiota ma guarda che nabbo, beh se l'hanno evitato anch'io che ho fatto headshot, boom, infigli dammi con più pesanti, devo fare headshot via via bello con headshot, no ok dovrebbe esserci nessuno ok però si è preso le hack, credo, ok, è morto oh cacchio, cacchio non si può neanche buildare, è vero, non si è noticato no, adesso faccio uno scherzo, questi qua, l'ho da dietro oh, pensa che siano con lui, con lui pensavo fosse con lui pensavo che fosse arrivato il dammo da dietro eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì ah, vi ricordo che per avere il tutorial, faccio il tutorial delle macro, a 100 iscritti vi faccio il tutorial 170, ma dai, perché non l'ho kill, mi avete skillato, vabbè fateci voi a queste macchine, ma che nabbi che sono i miei compagni what poi vi farò anche, se mi guardate nei commenti farò anche un video con, che faccio vedere la mia postazione da gaming attenzione, attenzione, attenzione c'è la link di dove trovare tutti i prodotti però ho visto qualcuno qua avete visto anche voi, vero? vabbè ok, eccolo questo qua, che si è preso le hack ok, già è morto attenzione, attenzione oh, vabbè, tutti con le hack questi no ho già 11 kill però sono secondo chi è? dai, brutti si prendono le hack come si prendono le hack? non mi ricordo più dove si prendono c'è nella procente sono già vittico, vero e vabbè, ma dai perché rimandano qui da due a questa gente dai, mi hai skillato un pochino adesso le sono rotte le palle adesso lo chiedo io con la gente oh, cavolo, 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 cavolo attenzione che? vabbè, quello spasso vediamo se già vediamo se posso prendermi tipo lo spasso oh, se fanno uno a duecento un altro chile 100 ok, altro 100 ok se prendermi lo spasso no dai 100 io ho fatto ok adesso vado a prendermi lo spasso così almeno faccio le 200 si spasso, spasso cacchio, cacchio va che cacchio ok ok adesso faccio le 200 alla gente di 200 che non hanno mai visto prima brutto insame no no perchè non hai mica fatto headshot quando hai risperato lì perchè devi continuare a tirare headshot non c'è quando continua a tirare headshot lo sentite anche voi cioè stavo laggando stavo laggando stavo laggando no ma dai scicola ma questi qua vanno tutti le hack no 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 vabbè sono già 21 kill è bella bro sono già 21 kill è bella bro ho già visto come l'ho killato in un modo diciamo ho già visto come l'ho killato in un modo l'ho killato in un modo morto ah ecco quello che sono le hack è bella 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 quando mi sono lanciato ho detto vabbè mi lancio però non c'è tanto non facevo mica la kill invece dopo mi sono lanciato la becchiata la kill cioè qui si spegne vabbè sempre i nemici qui adesso faccio faccio come prima mi passo da dietro così saranno tutti felici quando saranno morti non riesco più a passare a dimandare dall'altra parte alta e andate adesso cosa gli faccio a questi maledetti che usano le capito che spostano della mappa però dai adesso guardate guardate un po cuginata poi c'è anche i miei compagni che mi proteggono andate un po' la presa eh vabbè adesso entri anche spalmando io che devo proteggermi ma non entrate spalmando entrare dalla parte l'ingresso e cazzo è cioè se fossero tutti forti come me per chi si deve morire quando si cade ok credo che dello spasso hanno limitato i danni perché volte quando faccio headshot ah no ok 203 ma una volta c'è 220 visto che bella headshot quella lì per quello no ah che cavolo è la novità orso decorativo l'orso decorativo questo piano che pensava che fossi della sua squadra l'olico da schiena abbo che non è che dico che è un abbo solo perché c'è la schiena che pensava fossi della sua squadra oh minchia qui ok attenzione attenzione via via ecco lì con le hack ti becca in un colpo comunque vabbè due con le hack e dietro io sono arrivato a questo qua no dai è laggato mmm sembra avessi lasciato non so laggare l'avessi visto no no ma non laggare così ecco oh cavolo 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 nooo eh vabbè se quelli si metterò a spammare ci credo ok è morto da qua è la mia fine comunque guardate cosa sta fila di fare tutto qui così appena arriva appena entra qualcuno se entra qualcuno l'ho uccido anzi non nemmeno faccio un'altra cosa quello lo faccio dopo guardate questa filata lo metto qui guardate che furbata guardate che furbata ok meno una kill per me ho rischiato un botto pensavo di tornare senza neanche una kill un'altra vai bro o no no sono fatto tre tipo tre quattro kill lì oh ha beccato quello hai visto che vabbè spara dal buco lì della porta l'ho beccato in headshot la sboccava solo se lo beccavo lo beccavo in headshot levati brutto melanzana mentre sto mirando dio oddio come nessuno è arrivato è arrivato come 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 si finalmente una nostra squadra che si è preso le hack almeno anche qualcuno dei nostri ce l'ha yeah non neanche mirare la kill adesso non ci crediamo ci fare se appena esce non credi no dai asci minchia si canta se asci sei un uomo morto quindi io ti consiglio di non fare si 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 vai gg bro vai e bro no 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 dai levati la riprende anch'io si vai 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 ok 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 vai via tanti 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 t Ma da dove? Come ha fatto ad andare in quel posto? Sì, me lo sto chiedendo anch'io come ha fatto a salire lì sopra Ok, io ho fatto edshot però 81 perché ho pochissima vita Ah sono prima della mia squadra, vai 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 Ma dai cazzarola Vediamo quanto 550 Bene Quindi io mi faccio subito un flopper Dato che ce l'ho, ce l'hanno finiti Ok, adesso mi prendo il barretto E poi Cp90 Adesso Ma che cavolo dai! Cioè mi avete fregato tutte! Tutte le kill Tutti schillati Quanto ti odio Tu brutto Ma dai! Adesso basta, adesso mi avete rotto il memorino Impostazioni Aperto l'automatica parte no Ok, adesso ho faccio così Ok, adesso ho faccio così Ok, adesso ho faccio così basta come fa si 132 è una rotta oh vai 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 esci con la tua brutta testa no dai 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 cavolo no devo farmi subito lo peccato mi sembra bravo non c'è la seconda mia è diventata sfida tra cecchini oh andai oh ma rotta e vabbè chi è sto tipo ok capito c'ha quell'arma però vai vai esci con la tua testa così muore faccio un 330 no andiamo andiamo e provi 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 ma chiudi quella bocca come non me ne frega niente delle tue parole allora faccio qui vai 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 oh 91 così alla casa ah vabbè che ho fatto male ho fatto male questa è il punto è finita oh ma oh ma oh ma dai ho un piscatore di che la gente vedi anche schillati tutti idioti come fanno davvero quella mira del cavolo 59 kill adesso non è il primo ovviamente gli altri sono scarsi hanno fatto pochi kill 9 oh 15 61 uso di rafficano non neanche ricaricato si si vai 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 non aver vinto si vai 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 vittoria abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto con io prima come se ti hanno gli schien di prima o brutto scuola questo se non l'ho qui perchè tanto c'ho già avuto un pochino che non dovrebbe in teoria servirmi tanto tanto vai via prendo un'idea ok vai 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 adesso sono pronto prima quella gente la si vendeva tutte loro le ac invece adesso le prendo tutte io cioè noi stai bene nooo no 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 mi hanno fatto fare tanto no adesso ho tanto c'è solo perciò il nab ancora vediamo dove no posso essere ancora qualcun altro però non so anche da onde non sto volendo E allora basta Ma che cavolo sto sperando Vabbè gli altri sono tutti andati Quindi Ciao raga E ci vediamo nel prossimo video Ciao